Vengo da Roma, sono italiana, ho studiato fagotto al Conservatorio Santa Cecilia e adesso sto studiando educazione musicale qui al Conservatorio di Maastricht. Ho iniziato quando ero piccola con il pianoforte, poi ho fatto anche un paio di anni di canto lirico e a un certo punto è arrivato il fagotto nella mia vita e quindi ho cominciato a studiare il fagotto. Ho fatto sette anni di conservatorio, mi sono diplomata, sono venuta a studiare qui in Conservatorio di Maastricht il corso Fast Track di educazione musicale che dà tantissime abilità nell'ambito dell'insegnamento e spazio anche in ambito strumentale, poiché dobbiamo imparare più di uno strumento tra cui chitarra, pianoforte, canto, basso elettrico, chitarra elettrica, batteria. Quindi il Conservatorio di Maastricht garantisce comunque una preparazione perfetta e anche lascia spazio a delle scelte personali, per esempio anche nell'ambito della specializzazione in Special Education e devo dire che questo corso li prepara direttamente a un approccio con il bambino. Le mie esperienze di triocino sono state, diciamo, perfette, poiché il primo anno ho intrateso un triocino in una scuola internazionale qui a Maastricht e ho seguito bambini dai 4 fino ai 14 anni e durante il secondo anno invece ho intrapreso un tirocino in Italia che mi ha permesso di seguire l'età avanzata, quindi la parte del liceo, quindi dai 16 ai 18 anni e sicuramente quello che mi ispira di più sono i bambini poiché ti trasmettono tantissimo, acquisiscono informazioni velocemente e si prova una certa soddisfazione nel momento in cui insegni qualcosa e alla fine loro riescono a suonare o comunque riescono a divertirsi grazie alla musica e riescono a imparare Il corso è veramente completo, importante penso che sia importante per il futuro della musica avere insegnanti preparati e con volontà di trasmettere questa passione e quindi consiglio a tutti di poter frequentare questo corso e di poter perfezionarsi e trasmettere quello che è per noi la passione della musica Grazie a tutti